Smetti di fare lo shampoo così, o a testa in giù. I capelli si rovineranno e seccheranno, in più lo shampoo non sarà distribuito correttamente. Ci saranno punti con maggior quantità di shampoo, che vorranno più tempo a essere sciacquati, e punti con meno quantità, che non saranno puliti per bene. Inoltre così laverai le lunghezze ma non la cute.